L'avete visto il film? Il mio personaggio si chiama, vabbè, il nome è Vera Karen, ma in realtà il nome è da supereroe, Void. Per me è stata la prima volta, io non sono assolutamente un'attrice, non faccio doppiato, non faccio niente. L'unico doppiaggio che ho fatto era alla mia voce per una pubblicità, quindi non penso a Void neanche molto. Ed è stato fichissimo, mi sono divertita un sacco, è stato difficile, però bello, alla fine, meno male, devo fare poche parti, quindi è andata benissimo. Mi piace perché è una mezza matta, in realtà è un po' sfigata in alcuni parti. E poi però comunque è super iperattiva costantemente, è sempre super felice, però comunque mi sono divertita un sacco, quindi... Poi parla veloce, l'unica cosa che mi dicevano sempre è che parlavo troppo veloce, mentre in questo film finalmente potevo parlare veloce. Ed è stato bellissimo, mi sono divertita un sacco. Comunque mi ha piaciuto un sacco tutto il film in generale. Grazie. Olson?